buona giornata il pensiero lo raccolgo da un pensiero che Nelson Mandela disse in passato io non perdo mai o vinco o imparo ed è vero ed è vero spesso non va tutto liscio nella nostra vita spesso ci sono delle situazioni o delle occasioni in cui ci riconosciamo tra virgolette perdenti o perlomeno forse non è andato come desideravo o nella tra virgoletta sperata vittoria che ci poteva essere per determinate in quella situazione ecco o vinco imparare imparare dai nostri fallimenti sapendo che il fallimento non è il capolinea ma è l'imparare da lì perché dà un significato a quello che potrebbe essere sicuramente una situazione che può ripetersi ma che sia uno strumento in più nell'affrontarla che il Signore ci aiuti e abbiamo anche tutti l'umiltà da imparare dai nostri sbagli forse noi recriminiamo quelli sbagli e ognuno di noi forse in questo momento sta pensando a quelli sbagli più o meno grandi tessuti e fatti però impariamo anche però ci può essere l'occasione da dire ho imparato anche da lì determinate cose per cui oggi sono diverso nel rispondere il Signore ti illumini e ti benedica buona giornata